Buongiorno, questa mattina ho ricevuto una telefonata da qualcuno che mi segue, sparsone per l'Italia, che era tutto preoccupato perché aveva ansia, attacchi di panico ed era andato a fare le solite terapie o psicoterapie e per giù qualcuno gli aveva anche consigliato di prendere degli psicofarmaci. Bene, perché faccio questo video? L'ho fatto diverse volte, molti dei miei video sono incentrati sull'ansia, l'attacco di panico, le fobie, che sono le cose che ci angustiano di più. Ebbene, la cosa che io noto ed ho notato ancora per l'ennesima volta dal discorso con questa persona che non conosco ma che seguendomi su YouTube o su altro mi fa la domanda, mi chiede, ma come se ne esce, perché, per quale motivo ho l'ansia, per quale motivo mi vengono gli attacchi di panico, quando, a volte sì, a volte no. Oppure mi chiedono, la psicoterapeuta o lo psicoterapeuta ha fatto questo, secondo lei com'è, com'è, com'è non è, va bene, ne va male, quindi una specie di supervisione. Bene, ora, proprio per non fare, per fare una supervisione a tutti gli psicoterapeuti, a tutte le psicoterapie, per l'ennesima supervisione e a tutto, anche di quella che io chiamo psicoterapia con farmaco, che è l'intervento della psichiatria in questi casi, bene, qual è il pozzo, la causa di pensieri di pericolo che poi ci fanno reagire, che ci fanno venire il batticuore o la costrizione di cuore o ci fanno venire una tristezza immensa. Qual è il pozzo, qual è la causa da cui nascono questi pensieri? Ma la cosa fondamentale è di dover sprecare due parole sulle psicoterapie. Le psicoterapie e la psichiatria si occupano di quella che è un effetto e non della causa. Eh, ho l'ansia, l'ansia vuol dire ho una costrizione di cuore, eh, non so dove andare, non so di qui, mi sento come costretto, un peso addosso, oppure ho semplicemente un po' paura, ho l'ansia quando devo andare a fare un'interrogazione, o mi viene una paura enorme per cui non ci vado proprio. Eh, o mi viene la fobia, la paura dell'ascensore o di altro. Ma il punto è che tutte le psicoterapie, comprese la psichiatria, con tutti i vari modi e mezzi, ogni psicoterapia ha il suo modo di fare, però si dà per scontato che noi nasciamo emotivi. E io dico, ma quando noi facciamo dei bei sogni, e soprattutto noi maschietti e anche le femminucce possono avere un orgasmo, c'era qualcuno e quando di notte noi il cuore ci va a finire, ci batte talmente tanto che noi ci svegliamo addirittura, c'era qualcosa, stavamo cascando da una rupe, ci stavano uccidendo, niente di tutto questo, non c'era nessuno, cosa c'era? C'era i nostri pensieri. E allora la causa qual è? E che noi reagiamo quando diciamo ansia, quando diciamo panico, che dal greco e dal latino vuol dire semplicemente il primo, fifa, il secondo, paura, grossa, come quando ci troviamo di fronte a un grosso leone e tentiamo di scappare in tutti i modi. In altri termini io non cambierei parola, il problema è nel cambiamento dei termini. Dovremmo sempre dire, usare la stessa parola, paura. paura sia quando vedo un leone, paura sia quando voglio andare su uno palcoscenico, suonare o cantare o parlare davanti al pubblico e il cuore mi va a finire fin nelle orecchie. non è panico come se fossi malato, no, ho paura di, di cosa ho paura? Ma è facile capirlo, di che cosa ho paura? Vado su un trespolo a parlare con qualcuno e di cosa ho paura? Che mi fischino? Mi devo mettere su un piccolo palco, espormi a un palco e di che ho paura? Che posso suonare male? E la cosa che viene dopo, il fatto che sto suonando male, che cos'è? Il contrario di quello che io desidero andando a suonare. Voglio gli applausi, temerò i fischi. I fischi sono un pericolo, come è pericoloso un leone. Solo che il leone ha un corpo più grosso del mio e c'è la minaccia sul mio corpo. In quest'altro caso non c'è la minaccia sul mio corpo, ma c'è la minaccia di qualcosa, i fischi, che mi fanno perdere ciò che per me è importante. E viene minacciato l'applauso che mi farebbe sentire bene, mi farebbe sentire apprezzato dagli altri. E cosa temo? Ho paura, cambiamo termini, non usiamo ansia o panico. Sono devianti questi termini perché ci portano semplicemente a pensare che noi siamo malati, cioè ci manca una rotella, perciò non riusciamo a fare le cose. No, la rotella ce la stanno facendo mancare semplicemente cambiando questi termini. Perché hanno cambiato questi termini? Perché coloro che ci sono occupati di queste cose hanno fatto un errore di base, cioè hanno pensato che un conto è avere un pericolo reale perché non lo vediamo davanti, quindi è un pericolo reale o del fatto che posso cadere da una ruppe, oppure è che è un conto e voler andare a scuola per pigliare otto e ho fifa. Non c'è un pericolo reale. E noi non siamo animali, noi facciamo ipotesi di pericoli. e quell'ipoteo, quel pensiero di pericolo immediatamente mette in fuga il corpo. Prendere otto è un bene? Se fossi oniscente vado all'università e voglio prendere l'eterno, 30 e anche la lode e sono sicuro che prenderò attacchi. Avrò paura? Avrò attacchi di panico? Avrò un pochino pochino d'ansia? No, non lo posso avere perché non sto formulando nessun pensiero di pericolo. Non è sine causa il fatto che io ho una reazione di fuga, ho un batticuore simile a quando mi trovo davanti a un leone. Anche perché è semplice dover ragionare. Qui manca un ragionamento dialettico, logico. Se effettivamente ammettiamo che l'ansia, l'attacco di panico sia effettivamente un problema nostro interno di essere nati male, quindi che siamo nati emotivi, allora ditemi un po', per quale motivo se il leone è fuori di noi, la tigre sta fuori del recinto, noi scappiamo e invece siamo molto curiosi di andare a guardare i leoni, le tigre, i gattopardi, quello che ti pare, anche gli orsi, qualunque animale, anche un serpente boa, e vederlo all'ozione. E siamo curiosi e nessuno di noi affifa di quegli animali, ma fuori sì. Cosa cambia? È tanto complicato fare un atto di introspezione e vedere se pensiamo che tipo di pensiero cambia. Se sono liberi, il leone è più forte di noi, ma se il leone, come ci sono alcuni cani leoni, piccolini, noi abbiamo paura di quel cane leone piccolino che si abbaia come un disperato e ci fa vedere i denti che ha. Nessuno di noi ha paura, perché siamo più grossi, no? Quindi non può lederci, quindi non pensiamo a un pericolo, lo lasciamo abbaiare come caccio vuole. E' bene. E suonare in pubblico, parlare in pubblico, andare a un'interrogazione, desiderare di prendere 30, perché se prendo 30 e lode, la mia carriera si velocizza per giunta, posso prendere un voto di laurea di 110 e lode, con questo 110 e lode sicuramente, me l'hanno già assicurato, lavorerò non so dove e questo lavoro mi garantisce di vivere per sempre, ma scusate, ma un po' di capacità introspettiva dove la nostra mente può vedere quello che pensa mentre lo sta pensando, questa è la capacità introspettiva. La nostra mente lo sa fare, eh? Usiamo un po' la capacità introspettiva, eh? Quindi abbiamo detto che se prendo 30 e lode, questo 30 e lode, altri 30 e lode, mi portano a una laurea 110 e lode. Con la laurea 110 e lode mi hanno già assicurato che prenderò un lavoro che mi assicura da mangiare tutta una vita. È un bene, no? E questo bene è soggetto che cosa? Ha un falimento. Perché? Se prendo 30 e lode, se prendo tutti 30 e lode, arrivo a prendere 110 e lode con la tesi, allora questo è sicuro. E se non arrivo a 110 e lode, che significa? Che non è sicuro. Che io troverò un lavoro, come me l'hanno garantito, hm? Che mi assicura, eh? La mia vita, mangiare tutta una vita. E sarà per caso una torta gelato il fatto di perdere questo bene, hm? Che mi può assicurare di vivere tutta una vita. Cosa pensiamo? È automatico pensare che è un male enorme. E quindi è naturale che io, prima di andare a fare un esame, temerò, libererò moltissimo prendere 30 e lode, ma temerò perché non sono onnisciente, quindi non ho la garanzia, hm? Sul fatto che posso ottenere con certezza quel 30 e lode. E non c'è nessuna garanzia che io prenderò, hm? 110 e lode, che mi potrebbe garantire, non c'è garantito questo, perché ci sono le leggi che mi garantiscono questo, di poter mangiare tutta una vita. Eh? Non sono onnisciente, non c'è nessuna garanzia, quindi più è grande, più forse è anche sicuro, è quello che desidero, i passi che devo fare mi garantiscono forse un bene sicuro, più temo di non poterlo avere, di poter fallire lungo la strada e temo di non poter avere quel bene sicuro. Questo e si ne causa? È lo stesso. Il leone mi può mangiare. Il fallimento di tutto questo percorso, il fallimento, il fatto che non raggiungo 110 e lode e quindi fallisco e non mi daranno quel posto che mi hanno garantito solo con 110 e lode, hm? E allora che sto pensando a una torta gelata o ho un pericolo enorme per la mia vita? Quindi più è grande il mio desiderio, le cose che voglio, più la cosa opposta è un pericolo e allora il mio cuore deve rimanere fermo? Scapperò come scappo davanti a un leone e come davanti a un leone non scappo se ho un bazooka, anche se davanti a questo pericolo il mio bazooka dice va bene, hm? Se mi va bene, bene, se mi va male, pace, ma raggiungerò con qualche altra cosa, tanto mangerò lo stesso. A quel punto io non avrò più ansia, non avrò più attacchi di panico, ma è possibile che sia così complicato capire sta cosa, hm? Bene, noi non siamo innocenti, quindi è inutile che prima di fare una cosa soprattutto, prima di voler raggiungere qualcosa a cui abbiamo dato un'enorme importanza e quindi che è a rischio di fallimento. La cosa opposta è come un leone che mi può mangiare e il mio cuore batte veloce per far che? Per farmi scappare. Tutti coloro che hanno attacchi di panico molte volte svengono addirittura come potremmo svenire davanti alla bocca di un leone che ci sta mangiando. Eh, perché sveniamo? Perché la vita è crudele apparentemente, però la vita si si pasce di altra vita, è un riciclaggio di vita continua. È crudele e misericordiosa nel nostro suo tempo, per cui quegli animali che sono costretti a soggiarci, a sacrificare o a donare la propria vita per far vivere un animale più grosso, gli animali vengono riciclati, hm? Ma non soffrono, perché? Ma ecco la misericordia della vita. Ma se io non voglio svenire? Se io non voglio morire? Eh beh, scusate, ma cosa sta pensando la mia mente? Mentre la mente di un animale ignora totalmente quello che gli accadrà, beato lui, noi purtroppo non siamo onniscienti da poter sapere con certezze che scelta fare per evitare il contrario di ciò che desideriamo, possiamo fare solo ipotesi per cui stiamo in una zona di mezzo e dobbiamo sapere che questa è la nostra condizione e solo se impariamo a seguire, hm? Camminare su questa strada, forse la nostra mente umana, che è capace di riflettere, capace di introspezione, alla fine capirà che può ottenere cose ma deve prima fare e poi aggiustare e nel fare e nell'aggiustare allora saprà come quest'organo, proprio perché è ibrido, proprio perché ha una mente umana e un animale, ovviamente l'alternanza fra queste due funzioni può garantirci il risultato, ma la mente umana su questo piano non si muove tanto facilmente se io alla mente umana non gli do.